Sollillo Raga basta con questo intro Forse non lo farò più Però no scherzo le faccio ancora Io oggi Volevo giocare con la Cattelig Una partita di allenamento E guardate cosa mi è spuntato fuori Andiamo qua perchè Buonestate a tutti Nel mentre vi ricordo di lasciare like Di iscrivervi al canale Di ottenere la campanellina E di nuovo di iscrivervi perchè sono vicino i 40 iscritti E il 51 di voi guarda il video ma non iscrivete E adesso Vi ricordo anche di condividere i video con i vostri amici Mi raccomando Condivete i video con i vostri amici Che adesso il nostro punto del ferimento Sono i 40 iscritti Ci stiamo veramente per arrivare Come sempre vi ho detto 100 iscritti Farò le live Cioè inizierò la live A 100 iscritti farò la mia prima live 40 iscritti Speciali 40 iscritti faccio una detran Su fornet Mentre andiamo a fare questa cosa Che secondo me Centro qualcosa con l'estate Quindi Buonestate E state Na 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 Voi non la so più questa canzone Se raga me la volete far ascoltare Un pochino in po' Scrivetemi qua sotto il link In descrizione della canzone Lo so Perché non posso farlo io No No Mentre Ovviamente La mappa Dele sta Uuu Un mio amico Questa mappa Mi sape che era la sua preferita Cioè sia la sua preferita Quindi Ciao Marco So che questa mappa È la sua preferita A fare in singolo Ciao Marco Ma se la puoi fare in duo La tua mappa preferita È qua Quindi di nuovo Ciao Marco Ciao Ricchia Ciao a tutti i miei amici Ciao Dov'è? Guarda dove? Guarda dove? Ma raga perché alzano? Io mi chiedo Ma raga se ci vedete la parata Alzate soltanto per fare parata No però raga sono uno contro due Raga sono uno contro due Guarda questo qua Raga se faccio un gol Due di S1 Cioè giù Oh Ti sei svegliato Buonasera E buongiorno E anche buongiorgio Eh 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 Che cavolo è successo? Eh sì Ecco si va bene domani Bravo abbiamo fatto un video di Fall Guest E l'ho perso a botte Poi con la stream in finale Quindi sono veramente incavolato Eh sì E dove la fatti? Oh bravo Ci hai provato almeno Ditto il cavolo Avremmo fatto un gol dove sei Adesso è che ti faccio esplodare Ah mamma mia Ah mamma mia Ma lo vanno fatto solo Per caso Dai va bene ruba Brutto vero Mamma mia Quello che non so gli altri Dove è? Ecco era lui Ecco era Ah Quello potete vedere tutti i punti Cioè Cioè Comunque andate a iscrivervi anche al vostro Al suo canale Proprio potete vedere Il mio canale dove ci sta scritto canale Eh Vabbabbabbabbabbabbist Quello che andate a iscrivervi anche al canale di Kandala E soprattutto quello di Marci Perché sta aggiungendo in cento Cento milioni di iscritti Bravo Marci Bravo Marci bravo vada marci fate iscrivervi tutti al suo canale vada marci basta, basta, basta fare pubblicità che dopo loro non mi pagano no, basta ragazzi, mi pagate, posso continuare fare partecipanti da big vanilla ma vabbè mi rissocio mi rissocio tranne per una cosa perchè dovete andare verso il mio canale sia quello di marci perchè stanno aggiungendo un sito video di iscritti e quale anche di tutti i fanciati in vanilla tale e il big ladro il big ladro è morto iiiiib e lo smiiiib babbiii avete capito no? oh no non ok e sce 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 a opto che parla il passaggio degli altri ancora l'altro minuto 30 di video poi andiamo tutti quanti a casa io andrò a registrare minecraft e finalmente minecraft la mia vanilla comunque se ancora non avete visto il video della vanilla in cui aprivo il cavallo nel prossimo video della vanilla che uscirà esattamente dopo di questo ecco beh ragazzi ci sono una brutta sorpresa una brutta sorpresa quindi metterlo a vedere probabilmente è stato vedere uno studio le pollicine qua è la palla qua come potete vedere la palla lo sapete perchè ho perso? perchè si è fatto un gol quando l'altro dormiva che vuole dormire a te a te sei brutto vieni qua guarda se ti prendo sei proprio se ti prendo sei una patata morta a te ecco ecco e io sei salti dove vai adee no dai ma faffanbagno te 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 no dai allora non voglio farvi vedere il video che la perdo quindi ciao a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao vi ricordo di lasciare e iscrivervi al canale e attivare la campanella ci vediamo al prossimo video ciao